Si riparte da qui, il Bitonto riparte tre settimane dopo da questo gol, quello realizzato in pieno recupero da tedesco nel derby giocato al Paolo Poli contro il Molfetta, quello del definitivo 3-3 che ha permesso ai nero-verdi di collezionare il quinto risultato utile consecutivo e soprattutto di conservare l'imbattibilità di Valeriano Loseto in panchina, con lui al timone della squadra, tre vittorie e due pareggi, ossia 11 punti collezionati su 15 a disposizione. 21 giorni dopo, archiviato lo stop agonistico causa Covid, il Bitonto ripartirà domenica prossima dallo stadio Lorusso di Venosa e dal derby Apolo Lucano esterno contro il Lavello, una delle annunciate protagoniste del Gironi H di Serie D. Ripartirà da questa situazione di classifica e da 5 punti in meno, ma anche una partita in più da recuperare, rispetto ai gialloverdi di Karel Zeman, terzi in graduatoria e con una serie aperta di due successi consecutivi. La partenza in ritardo, gli stop per Covid, l'impressionante sequenza di infortuni, le continue entrate e uscite in organico, il cambio di guida tecnica e i risultati altalenanti non hanno modificato però di una virgola l'obiettivo stagionale. Il Bitonto punta sempre al traguardo più ambizioso, raggiungere il calcio professionistico. La missione dei nero-verdi in ogni caso non è delle più semplici, in virtù dell'attuale meno 9 dalla prima della classe, il Taranto davanti. Tra l'altro ci sono altre 6 compagini, Casarano, la capolista virtuale del Girone, Nardò, Lavello, Fidelisandria, Picerno e Molfetta, con 15 partite ancora da giocare per i Bitontini e 45 punti in paglio, però nulla è compromesso in maniera irrimediabile. Una cosa è certa, la squadra di Valeriano Loseto deve correre parecchio più delle altre fondamentali per le ambizioni promozione del Bitonto. Saranno giocoforza le prossime due gare, entrambe contro dirette concorrenti. La prima, domenica in trasferta contro il Lavello, la seconda, mercoledì prossimo al Città degli Ulivi contro il Casarano, nel recupero della quattordicesima giornata. Sono vietati passi falsi ai nero-verdi, servono 6 punti per rimettere tutto in discussione, lo sa benissimo Loseto, lo sa benissimo la società che ha rinforzato ulteriormente la rosa con l'innesto di Giuseppe Tarantino, difensore siciliano, classe 99 e quindi utilizzabile come juniores, che in Puglia ha militato in D con il Gravina e in C con il Biceglie una freccia in più, dunque per l'arco bitontino.